E che si mangia oggi? E ve lo dico io! Parmigiana bianca di zucchine. Buonissima! Filante gustosa, economica e leggera. Che dite? La facciamo insieme? Per fare la parmigiana bianca di zucchine, iniziate con l'affettare le zucchine sottilmente, aiutandovi con un pila patate o con una mandolina. Infarinate le zucchine, eliminando la farina in eccesso. Versate un filo d'olio nella teglia, un pizzico di sale, un po' di pepe che come sempre a me piace assai, e fate il primo strato di zucchine. Aggiungete ancora un pizzico di sale, il pepe, il formaggio grattugiato, e il prosciutto cotto. Quindi la fontina o il formaggio filante che avrete scelto. Ancora un po' di formaggio e un altro strato di zucchine. Ancora un pizzico di sale, un pizzico di sale, pepe, e continuate con formaggio, basilico o menta, e ancora prosciutto cotto, fontina, formaggio e zucchine. Continuate così fino ad esaurire tutti gli ingredienti. terminate la preparazione aggiungendo del formaggio grattugiato e del pangrattato condito con sale, prezzemolo e aglio. quindi un filo d'olio e quindi ricoprite con un foglio di carta forno bagnata e strizzata e carta stagnola a fermare il tutto. A bollore eliminate la carta di copertura e proseguite per altri 15 minuti circa. ed ecco la parmigiana di zucchine pronta. come vedete è semplicissima da realizzare, veramente ci vogliono 10 minuti, vi consiglio di prepararla. grazie per aver seguito anche questa videoricetta, alla prossima, ciao! 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 ciao!